in questo esercizio vedremo come poter realizzare un effetto cammino la nostra geometria di partenza è una geometria molto semplice, molto lineare poiché non abbiamo bisogno di grandissimi dettagli perché non ci interessa il rendering infatti conviene sempre utilizzare dei cosiddetti placeholder quando utilizziamo le particles come notiamo ha soltanto la forma e ha questo nostro buco con questo incavo per il fumo andiamo a realizzare quindi il nostro emettitore il nostro emettitore sarà un emettitore standard di tipologia super spray lo disegniamo e lo alliniamo lo alziamo lo portiamo leggermente un pochino più basso rispetto alla fine del cammino a questo punto andiamo a regolare i suoi parametri quindi il pannello modify se noi iniziamo l'animazione vediamo che è molto molto veloce la prima cosa da fare sicuramente sarà quello di andare a impostare come esso si comporta nel mondo quindi i suoi parametri relativi alla sua velocità e il suo cosiddetto spread quindi i suoi movimenti nello spazio abbiamo a disposizione se ci spostiamo sulla timeline abbiamo a disposizione dei parametri che ci permettono di scegliere la sua inclinazione o comunque di scegliere la sua dispersione in maniera casuale quindi possiamo lavorare un minimo su questi parametri come per esempio attuare uno spread iniziale di 10 impostare anche un offset magari un offset 50 e un altro spread anche esso lo possiamo portare a 70 in questo modo abbiamo uno spruzzo che non è sempre uniforme naturalmente dobbiamo impostare anche la sua durata magari 100% di particles così ci rendiamo conto meglio di cosa stiamo effettuando in particle generation possiamo lasciare un user rate di 10 una velocità essendo un fumo abbiamo bisogno di una velocità molto più lenta quindi possiamo provare con 1 forse è ancora troppo veloce magari 0,5 potrebbe andar bene naturalmente avendo una durata una velocità così lenta abbiamo bisogno sicuramente di impostare anche andare a regolare il suo timing la sua emissione sicuramente se lo vogliamo vedere già all'inizio della nostra timeline abbiamo bisogno di andare a impostare un tempo negativo per esempio proviamo con meno 50 in modo tale che almeno sia più sia visibile subito la sua vita sicuramente sarà lunga quanto la nostra timeline in questo caso 125 anzi proviamo con 150 poiché abbiamo o 200 poiché abbiamo anche una velocità e un emit start negativo abbiamo bisogno anche di regolare la sua emissione il nostro emettitore non finirà praticamente mai di emanare particles e anche la sua display ok adesso è un fin troppo anche regolare di fatti vogliamo avere alcune particles che siano nello spazio siano disperse leggermente nello spazio quindi possiamo regolare la sua variation volendo possiamo impostare una variation di proviamo con 15 o 25 oppure anzi 10 perché è un valore molto più basso ed ora non ci resta che andare a impostare le sue dimensioni le dimensioni naturalmente delle particles saranno ridotte naturalmente andiamo a visualizzarle come mesh e andiamo a scegliere una tipologia di facing possiamo alzare questa la sua size volendo possiamo portarla per esempio a 6 proviamo l'unico difetto è che quando andremo a applicare altri effetti naturalmente queste particles non devono toccare non devono neanche fuoriuscire quindi possiamo andare a regolare sia la sua size la sua variazione ponendo in questo caso 25 anzi 10 ma anche il grow flow e il fade for il fade for lo portiamo a 0 poiché non vogliamo comunque nessuna riduzione nella parte in alto mentre il fade for lo possiamo alzare lo possiamo alzare in modo da ottenere questa specie di cono per esempio possiamo portarlo a 60 o anche si 60 può andare bene altro aspetto sicuramente fondamentale è la rotazione la rotazione in questo caso sarà molto molto lenta in questo caso qui invece vediamo che è molto veloce quindi possiamo ridurla per esempio portandola a un valore come per esempio 200 frame in modo tale che sia quasi inesistente naturalmente aggiungiamo una variation per avere una variazione anche della stessa vediamo che cosa succede vediamo che è molto lento e può fare al caso un altro